Un motivo di distrazione legittimo, crediamo, perché l'ospite che gentilmente ci è venuto a trovare questo pomeriggio è Paolo Braghetto, Art Director di bellezzevenete.com. Buongiorno, ben ritrovato a te Paolo. Grazie e ringrazio di nuovo te per questa ospitalità sempre gradita. Quando esce il calendario bisogna per forza venire qui da voi. Beh, ti ringraziamo di quel per forza perché ovviamente ha un senso estremamente piacevole sia per chi riceve che per chi viene qua. Insomma, questo ci fa enorme, ci rende enormemente soddisfatti. Diciamo che la vetrina è molto gradita, quindi... E parliamo di una vetrina come quella di bellezzevenete.com che è giunta a che anno di vita? Siamo alla nona edizione, quindi nove anni di grandi fatiche, soprattutto quest'anno perché posso assicurarti che la crisi si sente dappertutto. E quindi è stato proprio dura portarla a termine in questo progetto quest'anno. Tutti adesso mi chiedono già, è per il decimo anno? Si vedrà. Per il momento un attimo respiriamo, anche se stiamo facendo delle serate di presentazione perché giustamente chi vuole avere il calendario deve venire agli eventi, dove può conoscere anche le modelle e i fotografi. Perché grande novità di quest'anno, a parte il mio maglione per inverdire un po' il mio look, è che ci sono un fotografo per ogni foto. Quindi non più un solo fotografo professionista come negli altri anni, ma uno stile diverso per ogni foto proprio perché abbiamo deciso di far fare a un fotografo la foto con la sua modella preferita. Sono sempre ovviamente belle ragazze, ci sono un po' tutte le età perché non ci sono solo ragazzine, ci sono anche donne... Da 18 ai 30, questo è il panel insomma. Se le donne ci sentono che le diamo di una certa età a 30 anni, insomma a 30 anni sono ancora nel fiorfiore. Ci sono anche ragazzi, giustamente, perché anche la donna vuole la sua parte. Novità quest'anno, tre ragazzi, di solito ne ero fermato a due, ma ho visto che il pubblico femminile apprezza, gradisce, allora cerchiamo di fare queste foto di coppia. Tra parentesi sono proprio coppie vere queste. Ci sono le sorelle, ci sono i fidanzati, lui e lei. Si, tante novità. Ci sono le mamme. C'è un po' di tutto quest'anno. Vogliamo ricordare, Paolo, brevemente, se è possibile, come nasce bellezzevenete.com, che cosa ti ha spinto fino qua? Allora, bellezzevenete.com è il sito di supporto che dopo tutto l'anno dà informazioni, dove si possono vedere il backstage, video, come appunto si lavora, i casting e tutte appunto le news riguardo il progetto. Il calendario esiste da nove anni, prima era bellezza e padovane, poi ho allargato il respiro perché erano tante le ragazze di tutto il vento che vogliono partecipare e è un'operazione nata per valorizzare, io dico, come dicono anche tanti altri, la bellezza della porta accanto, quindi non necessariamente modelle e fotomodelle che comunque non mancano, ci sono sicuramente ragazze già viste nel calendario anche di quest'anno. Però io sono più un talent scout, così mi dicono, cerco di trovare in queste selezioni che facciamo a metà anno le ragazze appunto che magari molte per la prima volta si mettono in gioco, provano questa esperienza, questa ebbrezza, no, di posare davanti all'obiettivo e poi hanno sicuramente una certa notorietà che non guasta, soprattutto se poi volessero continuare nel filone del mondo della fotografia, dell'amore o dello spettacolo, come è successo a più di qualcuna. Senti, c'è un aneddoto legato a bellezzavenete.com 2015 che ti piace ricordare, che so, la ragazza che arriva con la mamma o con la zia o con la nonna? No, allora c'è proprio l'aneddoto principe, perché appunto perché quest'anno abbiamo preso le coppie, io non sapevo che una ragazza già fotografata fosse finanzata da molto tempo con un ragazzo che ha fatto la foto dopo di lei in coppia con un'altra ragazza. Ah, con un'altra. Allora si è creato un piccolo problemino, poi l'abbiamo superato perché, come dico sempre, amor omnia vincit, anche in questo caso, era solo una foto. Anzi, se uno vuol fare carriera deve sapere che, come gli attori devono baciare, no, anche le non fidanzate. Ecco, intanto stanno, grazie a Oscar Civieno in regia, che ci sta proponendo le immagini proprio di una di queste serate. La prima, la più importante, in cui ci sono appunto tutte le modelle, ci sono io, c'è un bel pubblico, veramente è stata una serata riuscitissima, quella di quest'anno. E ci sono tutti i fotografi, vorrei ricordare due in particolar modo, che sono Davide Lanzillotti e Gabriel Munari, che insieme a me si sono presi cura delle altre fotografi che erano la prima esperienza, anche loro di foto di calendario, perché non è uguale farla foto in giro e farla in un set allestito appositamente. Siamo tutti contenti di quello che abbiamo del risultato, insomma è stato ben accolto anche quest'anno il calendario e adesso si tratta semplicemente di promuoverlo al meglio, di far conoscere anche la ONLUS, che tu sai che c'è sempre questa finalità benefica. Quest'anno è una ONLUS padovana, si chiama Per il mondo ONLUS e si occupa, in questo caso, di un progetto di scolarizzazione per i bambini piccoli nelle zone di guerra. Stanno costruendo un asilo, o anche una scuola, nel territorio di Gaza, sappiamo benissimo cosa sta succedendo lì, per evitare che crescano e prendano altre strade, una scuola ci sta bene. Benissimo, avete sentito, per ulteriori informazioni il sito è bellezzevenete, una parola sola, punto com, dove potete trovare ulteriori informazioni. Intanto ringraziamo... L'originale, vorrei dire l'originale perché è stato abbondantemente imitato e copiato. L'originale, allora, vi raccomandiamo. Grazie Paolo Braghetto, artdirecto di bellezzevenete.com, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie a chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento 17.50 circa, TG7 Flash. A più tardi.